Leoncino, io sono sempre qua, tu puoi raccontare la tua versione, puoi dire questo e quello, puoi dire tutto quello che vuoi, ma qui l'unico falso, l'unico falso sei tu in questa situazione. Caro Leoncino, io ti aspetto qua, io i carabinieri non li chiamo, falle vedere questi screenshot, sono qua a Gabbiano Azzurro, io ti aspetto, io non ho paura né di te e né delle persone come te, che ripeto, tramite me cercano soltanto visualizzazione, lo ribadisco e lo ripeto, lo ribadisco e lo ripeto, io disso e cosa disso? Disso semplicemente la verità, faccio dising semplicemente per la verità, Agnelli ha fallito, ma vatti a vedere la situazione, perché adesso ha fallito per colpa mia Agnelli, vedi, lascia perdere, perché qui non è che ci sono io che non capisci di calcio, sei tu che non capisci di calcio, comunque io ti aspetto, io ti aspetto, e poi ripeto, io non ho affeso né tuo padre né tua moglie né nessuno, io ho affeso te, perché tu sei un cornuto, cornuto no perché tua moglie ti mette le corna, questo io non l'ho mai detto, cornuto perché sei cornuto, perché offendi le persone, offendimi sul piano calcistico, offendimi sul piano come cazzo vuoi tu, ma a offendere la statura, beh, questo è soltanto della gente cornuta, e lo ripetisco, sei doppiamente cornuto, ma non per tua moglie, perché io tua moglie non la conosco e non mi permetterei mai di offenderla, mai, mai fatta, forse hai sbagliato, hai sbagliato, la tua razza non è la mia razza quella che fa queste cose, lo ripetisco, tu fai questo semplicemente per visualizzazione, punto, che io ti sto rispondendo non ti risponderò mai più, non ti risponderò mai più, ma comunque, nati per finire, dateselo a cosano, qua, ti aspetta, ti fai anche un bagno, così un po' ti lavi anche la rogna che hai nel cervello.